Salve a tutti, oggi nuovo video, allora mi scuso già dall'inizio perché se sentirete dei lavori ci sono i miei vicini che stanno facendo dei lavori, niente ho detto dei lavori, non si può fare questo video oggi. Salve a tutti, oggi nuovo video finalmente, riesco a girarne uno perché vi assicuro ne vorrei girare veramente una ventina e non ce la faccio con il tempo al giorno, spero di recuperare a luglio. Allora oggi video di nuovi acquisti che ho fatto, questi nuovi acquisti sono collegati alla resina, innanzitutto mi scuso se sentirete dei rumori perché i miei vicini stanno facendo dei lavori quindi forse sentirete qualche rumore, speriamo solo qualche. Allora, volevo farvi vedere questi due nuovi acquisti, vi stavo dicendo sono legati alla resina perché appunto ho provato la resina che vi ho fatto vedere nel video precedente e ho fatto dei cabochon e praticamente ho dovuto comprare questo qua ed è un diciamo un Dremel o meglio simile Dremel perché non è della marca proprio Dremel però devo essere sincero sono veramente veramente strafelice di averlo preso perché appunto i miei cabochon ho diciamo sì cabochon in generale e io questo attrezzo mi permette di bucarli, rifinirli, lucidarli eccetera. All'interno ci sono all'incirca 80 spazzoline diverse per qualsiasi lavoro, veramente alla fine vi metto una foto o ve lo faccio vedere da vicino perché ancora non ho preso il caricabatterio della macchina fotografica nuova. E poi un altro acquisto che ho fatto è veramente questo qua l'ho pagato in offerta 38 euro o 40, super giù 38 o 40 euro. Devo essere sincero vabbè che me lo vedrete usare spesso adesso nei video quindi per questo non ve lo voglio far vedere da vicino perché tanto poi lo vedrete. Quando prenderò le punte vi dirò perché sto gesticolando troppo con le mani. Allora no vi volevo dire appunto che poi lo vedrete nei video quindi non non credo che ci sia bisogno di vederlo proprio da vicino. Poi ho comprato questa valigetta qua che mi è utilissima, non la lascerò mai più perché praticamente questa qua l'ho comprata in un negozio che vende articoli per la pesca. Era in offerta anche questa allora ho deciso di comprarla. L'ho pagata sui 45 euro e perché mi piace? Perché non è la solita cassettina diciamo quelle per pescare che si aprono e escono tutti gli scompartimenti diciamo separati ma nello stesso tempo non mi piace ecco in quella maniera. Allora questa si presenta così, la metto così così, si aprono questi due grancetti che ci sono e dentro ci sono dei raccoglitori diciamo in plastica, ve li faccio vedere e questo qua me lo porto sempre dietro cioè praticamente ho fatto come una sorta di kit per le emergenze tipo se devo fare mi è venuto in testa di fare un certo tipo di orecchino in una certa maniera per esempio allora io qui mi sono portato l'occolente per poterlo fare e ho fatto uno scompartimento solo con minuteria metallica, chiodini, gancini, chiusure eccetera e chi più ne ha più ne metta, anzi ho messo anche dei dei dischi, ve li faccio vedere così le dischi in madre perla, cose varie diciamo ecco qua e questo è uno per questo mi è piaciuto tantissimo quando l'ho visto perché mi permette di portarmi dietro veramente tantissima roba ecco qua questo è uno poi questi qua ve li faccio vedere nel prossimo video quindi qua ve li faccio vedere più veloci dei caboscioni in resina qua ci sono quelli che io già ho bucato e rifinito con il dremel qui sotto ci sono quelli che io ancora devo finire di rifinire diciamo ecco vedete sì l'ho usato tutta con la resina tanto adesso vi partiranno cioè giugno e luglio saranno i mesi delle resine nel mio canale vedrete solo resine perché ho fatto degli sperimenti molto 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 interessanti poi e la chiudo qui perché non voglio anticipare nulla poi dopo questi tre cassetti che adesso finiamo ecco qua allora sopra faccio vedere com'è mi ando scusate se non mi vedete in faccia però sopra è composto con questi due cassettini sempre uguali a quelli sotto però molto più piccoli con diciamo delle cose che tu ci puoi mettere all'interno delle scatoline che usi praticamente sempre e io ci ho messo delle cosine poi questo qua si apre ulteriormente e qui mi sa che è meglio se vi giro la videocamera perché voglio farvi vedere cosa c'è dentro allora scusate se questo pezzo del video ballerà un pochino ma ho dovuto togliere la videocamera dal cavalletto perché non era abbastanza alto per poter riprendere bene allora abbiamo questo cassetto c'è l'impossibile cioè veramente sono un grande disordinato quindi non fate mai come faccio io allora io qui dentro voglio farvi vedere quanto è grande quante cose ci stanno qui ho messo questo qui che qua dentro praticamente tengo tutti i laccetti le catenine che ho le mie pinze le mie pinze se non faccio cadere tutto non toglierò tutto però così una scatolina con perline cose varie qui dentro ho messo un po' di cabochon e cose varie che avevo già e poi niente mi sono portato tutta la roba del wire che mi hanno regalato ancora quelli dello swap di mani creativi il wing jing tanto per averlo dietro visto che se mi viene la fantasia di lavorare almeno ce l'ho dietro e niente cordoncine questo che me l'ha regalato a Kiki che saluto mi mando un bacione e niente c'è un po' di roba qua così e adesso visto che mi trovo con la videocamera in mano vi faccio vedere anche il dremel da vicino va qua chiudiamo come vedete ci sta veramente un'infinità di roba all'interno sono veramente contento di averlo preso ripostiamo questo e vi faccio vedere il dremel da vicino anche poi io lo dico io io chiamo dremel ma poi è simile il dremel allora lo apriamo c'ha veramente veramente questo qua si alza praticamente così e si muovono tutte le cosine qua io fino ad ora ho usato veramente pochissime di queste qua ho usato questa qui per definire gli angoli dei cabochon ho usato vediamo vabbè questa qui piccolissima non so neanche se si vede si eccola questa qua per bucare i miei cabochon qua ci sono i diversi mandrini e poi veramente veramente carte vetrate dischetti ci sono fatti tipo con la punta chissà se riesco a farvi vedere tipo con la punta diamantata per fare degli effetti che proverò e niente questo video finisce qui vi prometto che nel prossimo ci saranno tutti i cabochon che ho fatto con la resina e poi cominciamo diciamo con altri video che riguardano sempre la resina adesso vi saluto e vi mando un bacio sappiate sappiate che vi penso sempre ogni volta faccio appena un po' di tempo libero faccio potrei fare un video adesso e allora niente vi saluto a tutti e vi mando un bacio grazie ciao grazie 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 grazie